Regresso panoramico, strada della Sieta, abbiamo raggiunto i 1900 metri, quindi siamo praticamente in quota. Siamo nel Parco dell'Orsiera Rocciovrè, puntiamo verso l'Alta Valle Chisone e tra un po' dovremo cominciare a scorgere in lontananza Sestria. Spettacolo, guarda che apertura l'area, lo sterrato direi che in discrete condizioni, per fortuna la pendenza è comunque entro l'8-10%, quindi accettabile. Grazie.